Passo subito la parola anche in ottica all'amico, il professor Dario Monferlotto, che conosce la mia posizione, il mio massimo rispetto e considerazione per i medici. Non dico mai che sono un avvocato quando vado al medico, perché ho paura di altrimenti, non ha quella intuizione in più rispetto al protocollo e alle linee... Si mette in difesa! Dario Monferlotto è primario di medicina interna, primario work di medicina interna, direttore del dipartimento di disciplina medica per fare bene fratelli di Roma ed è presidente della federazione e dell'associazione dei dirigenti ospedalieri internisti. Ma Dario ha rilasciato al Corriere della Sera una recente intervista in cui si preoccupava appunto di affrontare il tema del post-covid. Come devono essere poi gestiti gli ospedali dopo la pandemia? Il professor Monferlotto ha seguito il pre-covid, correggimi se sbaglio, dove devono essere indirizzati i pazienti quando non si sa ancora se sono affetti da covid o dall'altra malattia infettiva? Che dir si voglia, che speriamo di avere sempre meno a che fare, ma purtroppo credo che avremo sempre più a che fare con questo tipo di malattie. E nella sua intervista diceva sostanzialmente cose analoghe a quella che diceva poco fa anche il professor Gretto sull'esigenza di una condivisione, cioè delle diverse, l'importanza di avere avuto varie specializzazioni insieme. Non sembrava di cogliere, Dario poi se sbaglio, correggimi, tu dici ciò che serve in ospedale è la collaborazione fra specialisti e non è strategico investire sugli uni e dimenticare degli altri. Ti chiederei anche... Sì, grazie, grazie Alessandra, grazie per aver organizzato questa interessantissima riunione. Io diffido dei medici che fanno i giuristi, quindi anche io non parlerò di giurisprudenza, di legislazione, non ne capisco niente, sono un orecchiante, leggo, studio... È un giurista, ormai non lo puoi più dire, è una figlia di giurista. Non mi permetto di intervenire, però sicuramente questa questione ci ha attraversato e ci ha coinvolto in modo pesante fin dall'inizio, perché quando si è cominciato a parlare di scudo penale, di scudo per i medici e gli operatori sanitari, è qualcosa che noi abbiamo visto con grande interesse e con grande favore. Poi c'è stata anche qualche stupida presa di posizione di qualche associazione professionale che siccome si parlava di estendere lo scudo anche ai dirigenti delle ASL, ai direttori generali, diceva, beh, ma allora non si può, loro sono responsabili, noi non siamo responsabili. Insomma, alla fine l'emendamento famoso nel decreto Cura Italia non è passato e forse adesso si riuscirà a mettere in una nuova legge, questo me lo auguro, ce lo auguriamo. Per rispondere alla tua domanda, Alessandra, leggendo in questi giorni molte cose preparandomi per questa riunione, ho letto una citazione dell'articolo 2236 del Codice Civile che dice, tutti lo conoscevano benissimo, se la prestazione implica la soluzione dei problemi tecnici di speciale difficoltà sanitaria, il sanitario è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave e la Cassazione ha più volte ribadito che in questi casi rientrano esattamente le ipotesi in cui la malattia trattata non è ancora stata sufficientemente studiata o è ignota. Allora, questa speciale difficoltà è esattamente la situazione che noi abbiamo vissuto fin dall'inizio, che poi abbiamo cominciato a conoscere, che abbiamo cercato di interpretare e credo, grazie al contributo di molti dei medici e degli infermieri che sono stati coinvolti, è stata portata anche verso la soluzione. Noi abbiamo vissuto una prima fase, che era la prima fase, non questa prima fase, seconda fase di cui si parla, diciamo una prima fase clinica. Ecco, parliamo della fase clinica del nostro coinvolgimento. Una prima fase che era quella dell'incertezza, della non conoscenza, in molti della paura, del panico. Io vedevo infermieri e medici, miei collaboratori, terrorizzati di affrontare questi pazienti, che si bardavano in modo esagerato, gente che aveva paura a camminare davanti alla stanza del paziente o nel corridoio perché veramente non si sapeva quale fosse il rischio di contagio. E poi il grande numero, l'enorme numero contemporaneo di pazienti che arrivavano in ospedale e io lavorando a Roma sentivo gli amici, io hai detto, hai ricordato che sono il presidente degli internisti ospedalieri e mi arrivavano le notizie dagli amici in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna che mi raccontavano delle scene apocalittiche, decine di pazienti che arrivavano nei pronto soccorsi, che venivano immediatamente assistiti in una situazione drammatica. Io avvisavo in ospedale, guardate, sta arrivando l'inferno, sta arrivando lo tsunami, quindi ho cominciato a mandare degli allarmi interni e quindi chiusura dell'ospedale al pubblico, limitazione delle visite, mascherina per tutti, organizzarsi con i dispositivi di protezione. Devo dire che siamo arrivati abbastanza preparati. Quindi la prima fase dell'incertezza senza indicazioni, senza le famose raccomandazioni cliniche, le linee guida, qualcosa veniva dalla Cina, qualche rivista aveva preso delle casistiche da Wuhan, ma non avevamo nulla su cui basare i nostri interventi se non fare in corpo riviglia, mano a mano, un po' di esperienza. La seconda fase è stata quella della presa in carico, della consapevolezza, di una maggiore conoscenza della malattia, di quello che accadeva, molto importanti le prime serie di autopsie che sono arrivate, lo ricordava Roberto Vettor, sono state fondamentali, nonostante bandite dal Ministero, quelle che arrivavano dalla Cina e poi sono arrivate da Bergamo e da Pavia, sono state fondamentali, ci hanno fatto capire la malattia che cosa provocava e ci siamo resi conto che il virus provocava non soltanto l'insufficienza respiratoria, ma era una malattia che colpiva tutto l'organismo, una malattia sistemica, come diciamo noi, multisistemica e quindi la presa in carico del paziente doveva essere, come dicevi Alessandra, quella di un'equipe interdisciplinare. Molti reparti di medicina interna sono diventati dei reparti Covid, proprio per la nostra attitudine a gestire il paziente complesso che ha il diabete, l'insufficienza respiratoria, l'insufficienza cardiaca, ha avuto l'infarto, ha il diabete, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci definiamo un po' i direttori d'orchestra, no? E quindi mettiamo insieme le varie competenze e il 70% dei pazienti ricoverati in ospedale sono stati seguiti dagli internisti. Quindi consapevolezza presa in carico interdisciplinare e anche inizio di terapie che non erano codificate, perché quando abbiamo cominciato a cercare di prevenire le complicanze con l'uso dell'eparina o con la clorochina o con l'uso di determinati antibiotici, con l'uso del cortisone che all'inizio ci veniva detto per carità non utilizzate il cortisone, abbiamo cominciato a utilizzarlo ad alte dosi nell'insufficienza respiratoria iniziale, questo ha cambiato il corso della malattia e infatti proprio di due giorni fa un ultimo lavoro pubblicato ha documentato quello che noi stavamo dicendo e che siamo anche per pubblicare, di quanto il cortisone potesse interferire nell'evoluzione di questa malattia. Terza fase ancora sarà molto interdisciplinare quella del follow up, del seguito di questi pazienti, del controllo a distanza, delle complicanze, chi rimane con insufficienza respiratoria, con un danno polmonare permanente, chi ha un danno neurologico permanente. Guardate quanti pazienti avevano un coinvolgimento neurologico con la mancanza di gusto e di olfatto, che era uno dei segni più tipici dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Tutto questo è accaduto quindi in una condizione di emergenza, in molti casi con mancanza di risorse. non sono morti i medici e gli infermieri che lavoravano nelle malattie infettive, nelle terapie intensive, sono morti i medici di medicina generale, sono morti i medici che stavano nei pronto soccorsi, che stavano nei reparti, perché ovviamente non avevano, all'inizio, non avevano dispositivi di protezione. Mentre in un reparto di malattie infettive hai sempre il dispositivo di protezione individuale, in altri reparti non ce l'avevi. Noi al Fatebene Fratelli per futuro non l'abbiamo sempre avuti all'inizio, anche per questo allarme dato molto precocemente, ma in molti casi c'è stata veramente questa difficoltà. E allora anche qui, come è stato detto da molti, il lavorare in condizioni di emergenza, ma anche disponendo di risorse scarse e insufficienti, un'altra delle condizioni che voi uomini di legge avete chiamato in causa e chiamate in causa in questi dispositivi di legge, in questo caso, che dovrebbero essere introdotti nella legislazione, è qualche cosa di cui si deve molto tenere conto. Vado a chiudere così, non mi dilungo troppo, sul discorso delle linee guida, delle raccomandazioni. È un'enorme letteratura medica che noi abbiamo e la quale facciamo riferimento. Le società scientifiche come la mia, l'amico Roberto Vettorlo lo sa molto bene, abbiamo contribuito molto e collaborato molto su questo, produce delle linee guida alle quali poi i medici fanno riferimento. Per il Covid non c'era niente, non c'era niente. Era arrivato dopo un mese un manuale che veniva da Wuhan, alla quale facevamo riferimento, ma c'erano delle indicazioni molto preliminari, non documentate. Noi parliamo sempre di evidence-based medicine, quindi basata sulle evidenze scientifiche, non c'era niente e quindi l'esperienza ci stava guidando. Quindi una condizione di pratica medica, di pratica clinica, in continuo divenire, in continua evoluzione, qualche cosa che in itinere noi stavamo portando avanti. Basti soltanto per sapere che noi ogni giorno, cominciavamo la mattina leggendo le circolari, le determine del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché dovevamo applicare dei comportamenti in ospedale che dovevano essere in qualche modo ricondotti a una fonte che desse queste indicazioni. Nessuno poteva dire, secondo me si mette la mascherina o secondo me bisogna lavarsi le mani dieci volte al giorno. Ci volevano dei riferimenti. C'erano, ma ogni giorno ce n'era uno diverso. E questo è stato un grosso problema anche di adattamento delle conoscenze e di adattamento alle normative che venivano proposte. Per esempio, e poi chiudo, i criteri diagnostici sono cambiati a mano a mano che avanzava la malattia. I criteri per la dimissione del paziente o il trasferimento dal reparto degli infettivi al reparto comune, anche quelle sono cambiate. Sui giornali ieri riportano l'ultimo criteri lasciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questi per la dimissione del paziente Covid dall'isolamento, che tutti i giornali hanno riportato perché. Perché noi fino adesso utilizzavamo il criterio paziente sintomatico, malato, sta meglio, primo tampone negativo, secondo tampone negativo, se il paziente non ha un sospetto clinico persistente, lo portiamo nel reparto comune se ha bisogno o se no lo mandiamo a casa. Adesso invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità e cosa ha detto? No, se il paziente è asintomatico, dieci giorni dopo la comparsa dei sintomi più tre giorni ulteriori, a quel punto lo devi considerare guarito e lo puoi dimettere. Se il paziente è stato asintomatico, ma aveva un tampone positivo, dieci giorni dopo il test positivo, tu puoi considerarlo guarito. Tutto questo contrasta nettamente con quello che è stato detto fino adesso, perché per riportare al lavoro un operatore sanitario che ha avuto l'infezione, passano due tamponi positivi, passa il test sierologico, il terzo tampone. Abbiamo avuto casi, e sono pubblicati in letteratura, di pazienti negativi che poi sono risultati positivi a un tampone successivo. Perché è successo questo? È cambiata la tecnica? È stato fatto male il primo tampone? Non lo sappiamo, però la cautela che ognuno di noi clinicamente ha adoperato utilizzando questi criteri è stato un elemento che in qualche modo ha permesso di salvare i pazienti, salvare noi, salvare la situazione generale. Quindi ancora una volta ribadisco l'estrema difficoltà emergenziale di mancanza di letterature e di evidenze della quale noi abbiamo dovuto far conto. Io credo che quindi tutta la discussione che si sta facendo sulla responsabilità professionale, sulla deresponsabilizzazione in questo caso, debba sicuramente tener conto di tutti questi aspetti nel modo più completo possibile. Nell'interesse io dico soltanto di una cosa, della sanità italiana. Perché poi la ricostruzione della sanità italiana, dopo questo, l'ho scritto in quell'articolo su Corriere della Sera, sta emergendo in tutti i documenti, è qualcosa che dovrà creare un ospedale diverso. Un ospedale che sia un po' antico, dicevo, un po' moderno, che sia pronto a diventare sanatorio per accogliere un'eventuale ondata di infetti e metterli tutti quanti insieme, come è stato adesso e come si faceva negli antichi sanatori, ma anche essere molto tecnologicamente avanzato, diagnostica di laboratorio avanzato, è un coordinamento delle competenze, internista, lo pneumologo, l'intensivista, il nefrologo, il cardiologo, eccetera, 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 per cercare di affrontare al meglio un'eventuale, speriamo di no, possibile nuova epidemia. Grazie. Grazie, grazie Dario. Spero che possiamo lavorare tutti per riuscire a raggiungere questi risultati, anche per quanto sarà possibile.